Abbiamo voluto recepire le indicazioni del nostro Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo rafforzato la zona arancione disposta su nostra richiesta dal Governo nazionale. Se crescono i contagi vuol dire che dobbiamo immediatamente agire, che dobbiamo contenere il più possibile l'epidemia per rendere il sistema sanitario più libero di lavorare e soprattutto per fare procedere velocemente la campagna vaccinale che tanto sta riscuotendo attenzioni e speranze da parte dei cittadini. È un lavoro intenso nelle prossime settimane ma io sono convinto che queste misure ci aiuteranno fortemente a diminuire la curva dei contagi.